siamo qui con laurea innocente responsabile talent assessment and development di mercer italia buongiorno laura ciao amelia allora racconta un po che cosa fa che cosa fai in immersers allora innanzitutto sono immersa da circa quattro anni e immerser sono come detto responsabile del talent assessment and development dell'area di mercer che si occupa di tutte le attività di sviluppo noi supportiamo i direttori e ciara e le funzioni e ciara nel identificare i loro talenti nel definire dei processi per la loro crescita e per aiutarli a svilupparli a farli crescere all'interno dell'organizzazione che è uno degli elementi fondamentali e cruciali importanti per tutte le aziende in questo momento soprattutto dopo il periodo della resignation in questo momento tutte le aziende si stanno focalizzando su ciò che attrae effettivamente le persone nell'organizzazione e come svilupparle come far leva sulle loro competenze forti e quindi fare in modo di crescere i leader di domani raccontami laura ma quando hai scelto di venire a lavorare immersa che cosa ti ha spinto qual è stata diciamo la molla che ti ha convinto ma che cosa mi ha convinto innanzitutto il fatto che mercer è leader di mercato nei servizi di consulenza e ciara io ho fatto tanta consulenza nella mia carriera professionale però mi fa piacere e volevo assolutamente essere un'azienda leader di settore in questo e inoltre il fatto di poter conciliare l'aspetto diremo così internazionale di un gruppo internazionale con una libertà di pensiero con una libertà di anche una imprenditorialità lasciami dire rispetto a quello che si può costruire all'interno di questa organizzazione e per i nostri clienti fondamentalmente quindi il fatto di poter bilanciare un aspetto internazionale come un aspetto direi anche più di mercato locale cosa fa laura innocente nel suo tempo libero questa domanda che mi piace molto mi diverte molto mi diverte molto l'hai detto cerco di mantenermi sportiva e creativa allo stesso tempo perché adoro fare sport in particolare io e credo che chi mi conosce bene lo sa io sono un amante del tennis che è lo sport che pratico più di ogni altro mi piace perché ovviamente mi oltre che tenermi in forma fisicamente mi tiene anche in forma di testa e questo è un elemento importante è anche uno sport che sebbene venga considerato come dire molto individualista a me ha dato l'opportunità di creare tante relazioni di conoscere tantissime persone ed è un modo per fare tanta socializzazione quindi mi piace tantissimo e mi fa sentire tanta adrenalina dall'altro diciamo nel mio tempo libero cerco oltre di occuparmi della famiglia e di mia figlia quello di dare sfogo un po la mia creatività e quindi mi piace lavorare la ceramica sintetica quindi di fare oggetti quindi di come dire creare davvero qualcosa con le mie mani e più recentemente durante il periodo del covid ho imparato una cosa che non avevo mai fatto prima cioè quello di fare la maglia e l'uncinetto grazie a mia figlia e anche qui creo bambole di di uncinetto quindi queste sono le mie passioni al di fuori del del lavoro Laura si occupa sia di talenti che di talento creativo anche se stessa direi una a 360 gradi benissimo grazie Laura per essere stata insieme a me e grazie a tutti coloro che vorranno ascoltare la tua storia grazie grazie mille